buonasera a tutti buonasera sono michela pantuso account manager di alb questa sera permettetevi di presentare il nostro ospite buonasera andrea manzini buonasera michele a tutti i partecipanti buonasera un argomento molto interessante verrà trattato oggi parliamo molto durante la formazione di psicologia e c'è chi addirittura afferma che il 90 per cento dei risultati poi alla fine dipende dalla mente vero andrea confermo si pare proprio che sia una cosa assolutamente ormai conclamata che l'aspetto psicologico è preponderante sul metodo e su tanti altri aspetti del trading lo confermo assolutamente esatto e oggi andremo a scoprire insieme ad andrea come gestire la parte emotiva in modo da poi in modo da poter poi prendere decisioni di trading corrette e anche efficaci eh innanzitutto lasciatemi dire eh il disclaimer come eh da routine eh qualsiasi ehm webinar tratto da alb ogni informazione fornita nel corso del seguente webinar eh è finalizzata esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale eh e non eh hanno assolutissimamente lo scopo di fornire consigli operativi né di acquisto né di vendita di conseguenza ehm andrea manzini e alb non possono ritenersi responsabili per alcuna perdita vi ricordo inoltre eh che il trading di prodotti finanziari negoziati in marginazione rischioso e il settantasei virgola trentasette per cento degli investitori professionali non professionali perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore alb è ehm un broker regolamentato dalla MFSE e Malta Financial Service Authority con sede appunto e regolamentazione eh a Malta potete venirci a trovare quando volete eh nella nostra sede mh alcuni clienti lo fanno passando mh qui da Malta abbiamo eh degli spread molti molto competitivi eh potete visitare il nostro sito alb punto com e mh troverete la chat dove eh i miei colleghi saranno ben lieti di mostrarvi eh tutti i nostri eh spread e i prodotti e servizi che la nostra società eh offre molto competitivi sul sul loro tredici centesimi eh di di dollaro e di conseguenza eh vi prego di eh ricevere maggiori informazioni di conoscere la nostra società e eh perché no diventare anche dei nostri potenziali clienti ora lascio la parola ad Andrea andremo ad affrontare la psicologia del del trader argomento molto interessante per qualsiasi investitore e vi ricordo che faremo degli intervalli per dedicarci a ehm alle vostre domande e non esitate appunto a interagire a te Andrea. Grazie mille Michela eh rinnovo il benvenuto a tutti i partecipanti e confermo quello che diceva in apertura Michela stessa ovvero che la psicologia nel trading è un aspetto molto molto importante perché è molto molto importante perché eh di metodi ce ne sono tantissimi validissimi mhm penso che ognuno di voi in qualche modo ne abbia accorciato a qualcuno ma tendenzialmente un aspetto psicologico viene concedetemi ogni tanto trascurato ovvero si pensa che eh il trading sia più metodo che psicologia in realtà eh come vedremo nel nel prosseguo di questa questa chiacchierata che faremo insieme non sempre così anzi come si diceva prima eh molto spesso è un aspetto preponderante. Premettiamo una cosa assolutamente importante io non sono uno psicologo sono un ingegnere quindi eh ho una formazione assolutamente non umanistica ma una formazione più tecnica ma questo non mi ha assolutamente impedito di comprendere come in realtà l'aspetto appunto psicologico sia poi così importante e così fondamentale del trading. Eh diciamo che eh se vogliamo dare una percentuale si vive spesso di percentuali nel nostro mondo soprattutto eh potremmo anche dire che quasi magari il 70 80 per cento degli diciamo degli aspetti importanti di un buon trader di un trader profittevole probabilmente possono risiedere appunto in questo ambito in ambito psicologico. Eh non divulghiamoci molto di più adesso di questa introduzione ma andiamo direttamente al dunque perché poi appunto come diceva Michela avremo possibilità di fare eventualmente una a metà presentazione una cosiddetta pausa per eventuali domande se ce ne dovessero essere e poi andremo eventualmente a chiudere con altre domande al termine della progettazione stessa. Allora diciamo che l'aspetto come dicevamo importante del trading è proprio la psicologia. Quando approcciamo alla psicologia ci si focalizza come si diceva immediatamente sulla ricerca di un metodo e si corre subito verso questa ricerca spasmodica del sacro grave. Cosa intendo col sacro grave? Intendo quella 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 serie quella sicurezza di azioni da fare sul mercato dal punto di vista però prettamente tecnico che ci portino a dei risultati. Trascurando che cosa? Trascurando permettetemi una così una una frase celebre che molto spesso è il disondi adenamente dell'uomo che produce caos. Questa è una frase tra l'altro di un trader Robert Henry era un artista americano ma qua dentro racchiude molto di quello che andiamo a trattare oggi ovvero che molto spesso la confusione crea ovviamente un caos in testa e il caos non ci fa essere psicologicamente preparati psicologicamente pronti e attivi. Cosa si intende quando parliamo di caos nel trading? E ha tante cose ragazzi tantissime cose ma ovviamente andandole a dividere in pochi punti poi sono quelli che ci servono per essere diciamo i più pratici possibili la paura quale declineremo è meglio? L'abilità, l'euforia, la depressione e tante tante altre. Ma andiamo a vedere un attimino cosa intendiamo con paura, avidità, l'euforia, depressione che sono forse le principali quattro. Paura. Beh la paura del trading è una cosa pazzesca nel senso che ce l'abbiamo tutti, tutti l'abbiamo provata e forse tutti la continueremo a provare. Non è detto che la paura sia una cosa negativa perché molto spesso se noi pensiamo alla paura di attraversare una strada è proprio quella cosa che ci permette di guardare a destra, a sinistra e di attraversare la strada quando essere libera. Quindi non è sempre una declinazione negativa la paura. Certo che se la paura diventa immobilismo, diventa qualcosa che non facciamo perché abbiamo paura, ci irrigidiamo e non operiamo, questo al di là del trading ma non operiamo nell'ambito della vita, ecco che allora ha paura su una connotazione negativa. E in questo caso la paura che cos'è? È la paura di non riuscire del trading, è la paura di non fare l'operazione perché non si è sicuri, è la paura di cercare tutte le mille e uno combinazioni possibili tali per cui siamo sicuri di entrare ma non ci saranno mai tutte le mille e uno condizioni speciali che noi vogliamo e quindi non ci faranno fare click. E quindi non facendo click non operiamo e quindi se non operiamo non facciamo il trader, facciamo qualcos'altro, guardiamo uno schermo. L'avidità, beh l'avidità purtroppo permea la società moderna, forse non solo per la moderna perché la storia dell'uomo forse è costellata dell'avidità all'avidità perché se pensiamo a guerre, a tutto quello che c'è stato nella nostra umanità, sicuramente l'avidità ha un aspetto che la contraddistinta. Nel nostro caso è una cosa molto più circoscritta, molto meno impattante, ma l'avidità sicuramente è una componente del trading. Perché questo? Perché quando noi cominciamo a operare e magari abbiamo anche dei risultati, non abbiamo spesso la capacità di dire, beh fermiamoci, oggi abbiamo fatto il nostro, ci avevamo prefissati un certo obiettivo, un certo risultato, l'abbiamo ottenuto e quindi facciamo altro, stoppiamo e facciamo altro. No, a quel punto subentra questa voglia di accumulare sempre di più e molto spesso questa cosa che porta a un overtrading porta poi dopo a perdere magari anche quello che abbiamo guadagnato in quale giornata e quindi è sicuramente una connotazione che psicologicamente va circoscritta e va riconosciuta. Ovviamente l'avidità fa scopa con l'euforia perché molto spesso l'avidità è dovuta al fatto che siamo euforici perché siamo riusciti ad avere un risultato eccellente, un risultato sopra le nostre aspettative, comunque siamo riusciti a fare qualcosa che ci eravamo prefissati, quindi siamo contenti, siamo talmente gazati e non vorremmo smettere di continuare a fare operatività. Invece molto spesso psicologicamente è importante stopparsi e dedicarsi ad altro, un po' come uno sportivo, diciamo così, no? Se noi facciamo un paragone con l'ambiente dello sport è come un atleta che in quella giornata consegue un ottimo risultato e se lui continuasse a fare quella prestazione. Diamo poi ovvio che per stanchezza, per limiti fisici decadrebbero le sue prestazioni, è un po' altra ed indoguale perché comunque è un impegno mentale, quindi come tale comporta anche delle fatiche e quindi l'euforia va bene, magari ci dà anche quella spinta, quello sprono, quella adrenalina, ma bisogna saperla controllare perché sennò porta a dei risultati che poi dopo diventano negativi. In ultimo, non è mica una cosa tanto poco comune, la depressione, perché c'è anche la depressione. E la depressione quando è che arriva? Esattamente all'opposto dell'euforia. Quando noi abbiamo inanellato una serie di stop loss, una serie di trading non positivi, ed ecco che incominciamo a sentirci inadeguati, non abbiamo capito niente, siamo appunto depressi, non abbiamo voglia più di operare, non fa per noi, ecco tutti questi aspetti qua sono sicuramente il caos. E questo caos inevitabilmente è di natura psicologica. È ovvio che è solamente psicologia perché il mercato non è cambiato da quando eravamo euforici a depressi, la paura non è cambiata da quando siamo passati da paura a euforia. Sempre quello era il mercato, sempre quelle erano le situazioni, siamo noi che siamo cambiati. Il nostro paradiso, che abbiamo dal suo mercato, la nostra visione dal suo mercato che è cambiata, quindi è di natura psicologica. Tutte queste cose ci portano a fare che cosa molto spesso? A operare in modo errato. E cosa vuol dire in modo errato? Vuol dire semplicemente che magari inanelliamo una serie di risultati non positivi e scatta nella mente il cosiddetto recupero. Ah, voglio recuperare. Devo rifarmi delle perdite sostenute. Ed ecco che cominciamo a fare magari dell'operatività che non segue più il metodo fedelmente. Cominciamo a pensare a nuove metodi nostri. Cominciamo a inventarci qualche cosa, a vedere dei segnali che non esistono. Perché poi la mente gioca anche dei brutti scherzi in questo senso. Oppure ci porta a non operare. Quello che dicevo prima, da paura, ci blocchiamo, basta. Non operiamo più. Incominciamo a entrare in un loop perverso che non ci porta da nessuna parte. Sempre facendo un paragone sportivo, concedetevelo, il non operare è un po' come il tennista. C'è il tennista è il campione e c'è il tennista che è un buonissimo giocatore ma che non è un campione. Qual è la differenza tra i due? Allora, tecnicamente, se noi prendiamo il numero uno, il numero 50 del mondo, tecnicamente forse sono molto simili. Magari qualcuno ha una caratteristica di più o meno rispetto all'altro. Ma comunque sono simili come capacità. Dov'è che cambia? Cambia nell'attitudine che ha il campione quando è in una situazione di difficoltà. Ovvero, il campione sul match point proprio o avversario tira la pallina come fosse la prima pallina della partita. E quindi cosa fa? Gioca al massimo delle sue possibilità e molto spesso vince. Quello che invece non è un campione, in quella situazione incomincia a farsi delle domande, incomincia a avere paura, incomincia a avere il cosiddetto braccino. E con il braccino cosa fa? Sbaglia. Questa è la grossa differenza. Quindi non opera, non fa l'operazione corretta che dovrebbe fare, ovvero trattare, diciamo così, la pallina come fosse la prima pallina del match. Uguale nel trading, stessa cosa. Noi, a un certo punto, invece di continuare a perseverare con il metodo di seguirlo fedelmente, ci spaventiamo e non operiamo più. Vediamo un po' delle situazioni tipiche che probabilmente possono portarci ad avere un'operatività non ottimale e che, se non vengono riconosciute, possono minare tutto il nostro progetto di trading. Probabilmente qualcuno di voi magari ci si rincontrerà anche in queste cose che vedrà adesso, ci si riconoscerà. Iniziamo a studiare un metodo, ok? E ci formiamo nell'ambito del trading. Ad un certo punto entriamo in gioco, cioè decidiamo che dopo magari il periodo demo, il periodo in cui proviamo il metodo, eccetera, eccetera, andiamo a capire i principi del trading, entriamo in gioco, entriamo a mercato con soldi reali. Iniziamo a operare. Proprio perché siamo vicini, abbiamo appena studiato il metodo, siamo freschi, diciamo, di teoria, iniziamo con disciplina a applicare il metodo e abbiamo qualche soddisfazione. Cosa succede? Come lo dicevamo prima, siamo euforici e non smetteremo mai di stare a mercato. Continueremo a voler fare tanti trade, tanti trade perché sta andando bene. Poi però, perché questo ve lo garantisco per esperienza mia, di colleghi, di amici, di sentito dire, prima o poi succede che il mercato ce l'ha con noi. Ovvero, siamo così convinti che noi abbiamo scelto di fare un'operatività long e il mercato ci ha visto e va short. Come se noi siamo, io dico, una lacrima nell'oceano Pacifico, avessimo un'importanza per il mercato. In realtà il mercato non ci vede, ma neanche lontanamente, ma sono le sue regole. Cioè succede che prima o poi il mercato ci vada contro. Ma questo cosa comporta? Che da un'euforia per noi passiamo allo sconforto. Tutto quello che pensavamo prima, noi, che eravamo bravi, che abbiamo capito tutto, ecco che già cominciamo a pensare che non sia più così e ci sentiamo addirittura, adesso concedetemi la battuta, quasi vitive di un complotto da parte del mercato. Cosa comporta questo? Ma comporta principalmente due situazioni. La prima, che dopo una serie di perdite, anche con le migliori condizioni dal metodo, non entriamo più. Cioè abbiamo fatto un po' di perdite. Ci sarebbe la possibilità, secondo metodo, scelto da voi ovviamente, dal nostro metodo, di entrare al mercato e invece non la facciamo più. Nonostante lo dovremmo fare, perché disciplinarmente applicando i principi c'erano le condizioni, ma ci blocchiamo. Ed ecco che è il famoso, quello che dicevamo prima, braccio del chemista. Ci stoppiamo e non operiamo più. Oppure, cosa succede? Facciamo una cosa che delle volte è anche più negativa. Dopo un trade è andato a buon fine. Cosa facciamo? Chiudiamo, perché il metodo ci diceva il take profit, di metterlo a top pip dall'ingresso, eccetera, eccetera. Quindi noi facciamo un bravo compitino, un bravo compitino, quindi mettiamo un take profit, chiudiamo l'operazione, ma poi cosa facciamo? Incominciamo a vedere cosa sarebbe successo se, ovvero stiamo a guardare ancora continuamente il grafico per vedere cosa sarebbe successo se fossimo rimasti dentro. Ed ecco, magari ci accorgiamo che se fossimo rimasti dentro guadagnavamo di più, perché il mercato continuava a seguire il trend che avevamo previsto. non sembra, ma questa cosa qua è una cosa molto negativa, quella di continuare a guardare il grafico anche dopo aver chiuso l'operatività. Perché questo? Perché questo ci fa sì che nella nostra psicologia, nella nostra mente, si estilla al dubbio che il metodo non funziona più, oppure che noi abbiamo trovato un modo migliore per stare a mercato, quindi aspettare, non so per quali ragioni, e quindi si mette in dubbio quanto ha preso. Cominciamo psicologicamente a minare la nostra testa e a cominciare a pensare che noi siamo più furbi del mercato, che abbiamo capito che c'era la possibilità di rimanere dentro e quindi di guadagnare di più, non più seguendo il metodo, diciamo, condisciplina. Cosa succede? Testiamo un metodo modificato e io dico anche che purtroppo magari funziona. Cosa succede? Che ritorniamo all'euforia e all'onipotenza, cioè pensiamo di essere, di aver capito tutto, di essere il Mary Williams del mercato e devo che ripartiamo con un loop che ci riporta sopra, ancora euforia, sconforto e ancora con le due situazioni. Quindi continuiamo a stare dentro a questo loop e non ne usciamo più. Com'è che si esce da questo loop? Da questo loop si esce solo in un modo, con la disciplina. Cosa vuol dire disciplina? Che poi si va a braccetto con la psicologia. Vuol dire che se io ho un metodo, ho scelto un metodo che è testato e quindi è un metodo che ho delle dimostrazioni che funziona, lo devo seguire e se il metodo mi dice che io devo entrare qua e uscire là, io faccio così e basta. Non continuo a trovare nuove scappatorie. Questa è una cosa psicologica fondamentale. Essere disciplinati verso il metodo. Poi è ovvio che quello che vi sto dicendo è qualcosa di cui uno dice, beh ma è logico Andrea, perché la psicologia ferme a tutti gli aspetti della vita umana e quindi ovviamente anche quelli del trading. Ma io vi dico di più, che probabilmente la psicologia è ancora più importante per il trading, l'ho detto anche all'inizio, per ottenere o meno dei risultati. E questo perché anche se quando si inizia con il trading si pensa spesso al contrario, ma il trading è una vera e propria attività. È un'attività, concedetemi, lavorativa. Anzi, diciamo che è un'attività lavorativa da affrontare con impegno e demizione e in poche parole è una vera e propria professione. Quindi quando mettiamo davanti la parola professione, ragazzi, stiamo dando una connotazione ben più importante rispetto alla parola lavoro, perché il lavoro, concedetemi, può essere qualsiasi attività umana che porta un'azione a qualcosa. Io faccio qualcosa, ottengo qualcosa in cambio, quello nel lavoro. Ma senza nulla togliere al lavoro, per esempio un manuale, ovviamente scaricare delle casse di frutta è diverso che fare il chirurgo che opera a cuore aperto, ovviamente, perché da una parte ci deve essere una professione con delle competenze molto molto importanti. Quindi il trading ha una connotazione da professione, quindi ha delle caratteristiche molto molto importanti che lo contraddistinguono. Non è solamente un lavoro, ok? E quindi, come ogni professione, quello che la nostra mentalità deve interiorizzare è che per diventare un trader profittevo è necessario un percorso di formazione e di pratica sul campo. Senza questo non riusciamo ad avere un bagaglio anche psicologico, perché sembra un paradosso, ma in realtà se io sono formato e ho fatto pratica sul campo, acquisisco sicurezza e quando acquisisco sicurezza sono psicologicamente più stabile, ok? E concedetemi un banale esempio. Se voi dovete, eventualmente, mi auguro mai, ma se dovete, ad esempio, avete un trauma a un braccio e quindi dovete farvi fare un gesso, quindi dovete farvi mettere a posto il braccio e penso che voi volete che la persona che me lo fa abbia, ovviamente, una laurea, abbia un'esperienza, sia capace di farlo e non volete che ve lo metta a posto il primo che passa, che magari non è laureato e quindi non ha neanche le competenze per farlo. Qua è uguale. Il trader deve essere una persona che ha delle competenze verso quello che fa ed è quindi una competenza importante verso i mercati, per forza di costi. Perché attenzione, ed è quello che dicevo molto spesso, questo è quello che inganna i neofiti, che è un attimo, carriera nell'equivoco, che siccome con il trading non ci sono capi, perché non c'è nessun capo che ci dice quando fare, come fare e perché fare, non ci sono orari, se non quelli ovviamente dei mercati, ma come sappiamo sono molto ampi, ci sono molte possibilità di operare durante l'arco della giornata. Non c'è un luogo predefinito dove lavorare, si può lavorare dove si vuole, tant'è vero che molto spesso in internet si trovano anche immagini di gente alla spiaggia che opera con un pc portatile. Vero, è possibile farlo, basta che c'è una buona condizione internet, si può fare tranquillamente. Ma se voi ci pensate, questi qua sono degli aspetti, io oserei dire spettacolari, cioè bellissimi, io credo che queste qua sono le cose che molto spesso spingono la connotazione in avvicinarsi a questo mondo, perché gli permettono appunto di essere, tra virgolette concedetemi la parola, liberi, avere una professione libera, dove possono loro decidere dove, come e quando farla. Ma questa cosa, se psicologicamente non viene affrontata nel modo corretto, può portare invece a pensare che sia banale, che sia un'attività banale, perché in qualche modo vi basta internet, un broker, magari Alba appunto, è ciò che hai fatto? E no, non è ciò che hai fatto. Tant'è vero che vi faccio riflettere su una cosa. Quanti mondi che voi conoscete avete che gli operatori del settore vi danno la possibilità di avere attività debo, cioè provare prima quello che state facendo? Io penso pochi. E se ci pensate perché esiste questa cosa? Proprio perché è un ambiente professionalmente voluto, ma anche, tra virgolette, difficile se non conosciuto. Quindi è importante avere anche dei punti demo per provare, per testare, per capire. Quindi vuol dire che non basta internet e un broker, ma bisogna anche avere della formazione, bisogna anche essere preparati con della formazione a conoscere quello che andiamo a fare. Questo è sicuramente fondamentale. Quindi, come ogni professione, è necessario un percorso di formazione e di pratica. L'ingegnere, parlo per esperienza, come vi ho detto prima, visto che lo sono, almeno cinque anni di laurea, se non qualcosa in più perché aveva fuori corso. Il dottore, il medico, sei anni, più praticantato. Quindi tutte le professioni hanno sempre un tempo di formazione piuttosto lungo. Ora non vi sto dicendo che nemmeno di fare cinque anni o sei anni più praticantato per diventare dei trader profitevoli. Ci mancherebbe, ma sicuramente anche non un giorno vado a sentire un corso, vado a leggere un libro, poi parto e butto dentro i soldi sul mercato. Devo comunque formarmi, devo comunque capire le regole del gioco. Perché se capisco le regole del gioco, sono psicologicamente preparato e pronto ad affrontarlo. Quindi, come dicevamo, per acquisire sicurezza e decisione di avere più un giusto approccio psicologico, è necessario che il più del faccio dello studio non deve essere principali attività, per forza di cose. Così, come dicevamo prima, come qualsiasi altro lavoro di grande professionalità. E dove appunto tutto il percorso è sempre stato caratterizzato da studio e aggiornamento. L'attenzione è connesso anche aggiornamento. Perché? Perché quando si opera sui mercati, i mercati cambiano. Nel tempo i mercati cambiano perché cambiano le condizioni economiche del mondo. Quindi cambiano gli scambi, cambiano le relazioni, cambiano purtroppo anche le tensioni nel mondo. Quindi cambiano i scenari. Quindi bisogna essere un minimo, non dico che bisogna essere degli analisti fondamentali, ma bisogna al minimo capire cosa sta succedendo, essere un minimo informati e stare sempre aggiornati, magari attraverso i webinar che fa il broker, qualche informazione che potete trovare su internet, insomma, comunque stare sempre sul pezzo. È assolutamente importante. Il percorso logico, quindi, che migliora il nostro approccio al training è il seguente. Noi abbiamo la psicologia che è sicuramente, ben detto prima, un aspetto fondamentale della vita e di tutti noi, del nostro comportamento nella società, quindi anche nel training. C'è la formazione che crea un rapporto bionivoco con la psicologia, perché con la formazione aumento la psicologia, con la psicologia capisco cosa sto facendo e vado a cercarmi nuova formazione eventualmente, cose nuove che mi possono interessare. Insieme ci portano a che cosa? Ai risultati, che i risultati poi devono essere appunto conseguenza di una buona psicologia e di una buona formazione. Questo qua è un aspetto assolutamente fondamentale, quindi questo loop che vedete qua, questo loop positivo in questo caso, è assolutamente fondamentale. Poi allo studio va associata un'ultima ma importante abitudine. Questa frase arriva da un formatore non nell'ambito del training americano che diceva che la ripetizione è la madre dell'apprendimento. La ripetizione di che cosa? Dei metodi o del metodo che seguite. Cioè ogni tanto ripassatelo, andate a vedere cosa eventualmente avete dimenticato, tenete le tracce della vostra operatività in modo che sapete sempre dove eventualmente avete sbagliato e quindi potete correggere. È un po' come concedetemi il registro del professore a scuola. Voi immaginate se voi avesse fatto una stagione intera, un anno intero di scuola e il professore non avesse mai segnato diciamo i vostri ultimi. Come faceva lui alla fine dell'anno a stabilire se la tal persona era pronta o no a fare il passaggio l'anno successivo? Se non aveva traccia di quello che era stato il suo percorso e non aveva traccia del fatto che magari in un compito aveva preso quattro ma poi dopo aveva fatto il compito di recupero aveva preso sette e quindi aveva visto che ha avuto un miglioramento e aveva acquisito delle competenze che all'inizio sembravano non avesse. Senza un registro non aveva fatto nulla. Ecco, tenete in un registro. Quando voi operate con qualsiasi metodo tenete in un registro della vostra operatività perché diventa importante per andare indietro e vedere eventualmente quando sbagliate perché sbagliate. Quindi in pratica il trader e in questo caso ovviamente il notita ha maggior ragione perché magari quello esperto può anche ogni tanto proprio per creare esperienza magari ogni tanto applicarsi con meno costanza verso questi aspetti comunque sicuramente il trader che ne opta deve acquisire l'abitudine inconscia ad applicarsi costantemente per il miglioramento dei propri risultati e per fare questo deve continuare in loop ogni tanto andare a rivedersi per forza di cose. Ora, prima di continuare siccome adesso qua entriamo magari nel dettaglio di come forse un obiettivo eccetera eccetera mi fermerei un punto un attimo visto che siamo già circa a metà del nostro webinar e chiederei a Michela se c'è qualche domanda eventualmente a cui rispondere degli amici che sono in questo momento collegati. Non ci sono domande è solo una considerazione di Vincenzo secondo il quale è più difficile per lui tenere duro durante i periodi di drawdown in un trading system. Io al momento mi sto immaginando tutte le facce dei clienti perché si rivedranno in tutto ciò che stai dicendo ovviamente è un aspetto molto importante e so che al tempo stesso è difficile da gestire quindi avranno difficoltà nel rimproverarsi nell'essere autocritichi perché la psicologia è anche quello, no? Sì, assolutamente è conoscenza di se stessi e quindi autovalutazione assolutamente per riuscire a capire dove si sbaglia. Per quello che dice Vincenzo lo comprendo benissimo perché il drawdown beh, appunto, a parte che la parola down già è brutta perché vuol dire che è qualcosa che scende ovviamente in questo caso sarebbe la discesa di un risultato in qualche modo e quindi sicuramente non è un bel aspetto. A maggior ragione lo capisco che lui magari possa dire che vive con particolare difficoltà il drawdown se mi sembra di aver capito quando c'è di mezzo un expert advisor quindi qualcosa che non opera che opera in automatico lo comprendo glielo confermo perché psicologicamente non dipende da noi in qualche modo ma dipende da un qualcosa di cui noi sì è vero possiamo stopparlo l'expert advisor o farlo ripartire ma nel momento che viene deciso di farlo partire siamo tra virgolette un pochino nelle sue mani e sicuramente un expert advisor seppur sofisticatissimo adesso ci sono anche quelli che hanno la capacità di autoapprendimento tutto quello che vogliamo però è sempre una macchina che sta operando e non siamo noi noi in qualche modo quando operiamo abbiamo anche la capacità appunto di essere un pochino più critici che in alcuni casi può essere ovviamente un bene come nel caso appunto di Vincenzo avere un drawdown dovuto da un suo comportamento gli permette subito magari di andare a guardare qual è stato di intervenire fatto da una macchina e diventa un pochino ovviamente più difficile perché la macchina opera più in modo sistematico e è anche vero però che Vincenzo gli do questo chiave di lettura a questo spunto che la macchina in realtà toglie l'aspetto psicologico perché nel momento in cui noi affidiamo tutto alla macchina lei non ha sentimenti ovviamente non è umana e quindi opera in modo automatico secondo delle regole dati che sono quelle dal mito qual è migliore non sta a me dirlo è una cosa assolutamente personale io al momento non opero con un expert advisor ma cerco sempre io di fare un'operatività diciamo così personale però è vero confermo la sua impressione la sua affermazione che il drawdown visto da dove noi non siamo state parte attiva può essere sicuramente un pochino più ostico da digerire diciamo così quindi io se non ci sono altre domande proseguirei con la definizione per esempio dell'obiettivo anche l'obiettivo è una cosa che incide sulla psicologia e anche tanto perché? perché l'obiettivo è un sogno ecco mettiamola così l'obiettivo è un sogno noi abbiamo magari il sogno nel cassetto di cambiare qualche cosa nella nostra vita attraverso l'obiettivo ci poniamo un obiettivo ovviamente con il marco temporale e su quello noi lavoriamo ma dai percorsi che non bisogna quindi essere focalizzati in quale obiettivo vogliamo raggiungere ma come facciamo però intanto prima di essere focalizzati come facciamo a in qualche modo stabilire un obiettivo e far sì che sia un buon obiettivo a livello psicologico? Bene l'obiettivo deve essere ben definito un circostanziato perché dire io voglio diventare ricco non è un obiettivo è una speranza è un sogno è un boh è una cosa perché non ha nessuna definizione cosa vuol dire diventare ricco? per una persona potrebbe voler dire fare un milione di euro per un'altra cento milioni di euro per un altro invece solamente centomila euro quindi non è misurabile quell'obiettivo lì non ha nessuna connotazione per dargli un senso di concretezza non c'ha niente quindi deve diventare ovviamente un qualcosa di più concreto quindi deve essere realistico questa è una cosa che abbia la sua consistenza per essere realistico cosa vuol dire? vuol dire che deve essere un obiettivo che nell'ambito del trading è inutile pensare di guadagnare una doppia cifra percentuale fin da subito se io parto e dico ah oggi inizio ho conosciuto un metodo studio faccio la mia parte in demo passo al real oggi inizio con il real bene oggi voglio fare già il 15% beh io ve lo auguro ragazzi io vi auguro di trovare quel metodo e soprattutto vi auguro di avere quella mente per conseguire quel risultato però sulla maggior parte delle persone vi dico che sarebbe molto difficile conseguirlo quindi forse molto meglio avere un'aspettativa nettamente inferiore rispetto all'obiettivo ma molto più realistica molto più vicina anche perché molto spesso avere obiettivi molto lontani porta a non crederci è come se io vi dicessi domani dovete fare la maratona ecco se domani vi dico che dovete tutti alzarvi e partire a fare la maratona non so quanti di voi domani mattina veramente si alzano e si mettono a correre per le 41 e passa a chilometri se invece io vi dicessi domani mattina senza conoscervi senza sapere il vostro grado di allenamento vi dicessi ragazzi domani mattina ci alziamo facciamo un chilometro insieme probabilmente la maggior parte di voi potrebbe riuscire a farlo quindi è chiaro che quell'obiettivo è molto più misurabile perché è molto più vicino a voi alla vostra idea e quindi è importante avere obiettivi di questo tipo anche avere profitti da 1000 euro al giorno se metto sul conto 100 euro beh praticamente impossibile oppure se ci riuscite mi auguro che facciate voi un nuovo webinar dove io sarò spettatore e ascolterò il vostro metodo perché sarà eccezionale ma tendenzialmente ragazzi lo prendiamoci in giro non è possibile è veramente impensabile una cosa di questo tipo quindi l'obiettivo deve essere appunto un obiettivo realistico deve essere un qualcosa che vi prefiglio con un livello di fattibilità umano ok diciamo che se vogliamo sempre fare un paragone sportivo questa volta non parlo più del tenista diciamo che dobbiamo essere come uno scalatore lo scalatore il Messner di turno che faceva gli 8000 che faceva l'Imanaria beh ma secondo voi partiva da terra dalla pianura e partiva in un giorno andava solo 8000 e sicuramente no cosa ha fatto? sicuramente partiva arrivava a una certa altezza dove c'era il primo campo base al primo campo base si fermava stava tot giorni perché si doveva acclimatizzare doveva comunque far sì che il suo corpo si abituasse a pressioni temperature eccetera 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 quando era pronto ripartiva per il secondo campo base che magari era 4000 metri e via e via e via fino ad arrivare agli 8000 quindi con questo cosa vi voglio dire potete anche porvi un obiettivo ambizioso che deve essere il vostro obiettivo finale ma prima obiettivi intermedi obiettivi a breve a medio e poi quello a lungo quindi cominciare a dire voglio guadagnare tot in x tempo questo potete dirlo solamente voi non posso dirvelo io potete decidere se è un guadagno giornaliero un insilio annuale quello che sia però ponetevi degli obiettivi fattibili vicino una volta raggiunti con costanza non raggiunti una volta perché se voi dite io voglio guadagnare 100 euro al giorno e lo guadagnate solamente una volta tutti gli altri giorni vi perdete allora non è ancora un obiettivo raggiunto perché dovete raggiungerlo con costanza dopodiché quando avete fatto con costanza passerete a qualcos'altro direte bene adesso che ho raggiunto questo voglio incrementare fare qualcos'altro e di volta in volta che voi diciamo superate lo step vi avvicinate sempre di più a quel obiettivo finale che vi siete posti che sarebbe quello più ambizioso ovviamente anche il tempo è un aspetto da non trascurare quando parliamo di psicologia partiamo dal presupposto che il tempo è la risorsa più importante in assoluto che abbiamo non nel trading ma nella vita quante volte ci siamo sentiti a dire che l'unica cosa che non torna indietro la diamo troppo scontata ma ragazzi ci pensiamo alla verità noi siamo qua insieme adesso da 30 e passa minuti non torna più questi 30 e passa minuti io spero che quantomeno sia stato del tempo per voi proficuo ma comunque è del tempo che non torna più quindi il tempo è fondamentale e questo nel caso del trading che tempo il tempo da dedicare ma soprattutto il tempo che posso dedicare perché poi c'è l'aspetto anche degli impegni che ne abbiamo e quindi è ovvio che quando noi parliamo di tempo dobbiamo pensare al tempo che la nostra vita ci permette anche di dedicare al trading ok quindi quando noi parliamo poi di tempo da dedicare al trading non vuol dire solamente il tempo che dedichiamo ad operare ma anche il tempo a studiare e abbiamo detto prima che la variabile formativa diventa una variabile fondamentale per proseguire nel nostro percorso il trading profittevoli quindi quando parliamo di tempo tempo da studiare e tempo per operare come dicevo prima il tempo è un aspetto che abbraccia la sfera personale quindi di grossi consigli non posso dare io non posso dirvi dovete studiare 4 ore al giorno mezz'ora al giorno 24 ore al giorno questo abbraccia la vostra propensione allo studio e all'operatività la vostra il vostro tempo la vostra vita perché ovviamente tocca a sfere personali che partiamo da quella lavorativa quella familiare eccetera 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 quello che però è certo è che va valutato il tempo che si ha a disposizione bisogna fare un'analisi una valutazione del tempo che si ha a disposizione qualsiasi esso sia ma va comunque fatta cioè bisogna essere consapevoli di quanto tempo possiamo dedicare a questa cosa e ovviamente questo tempo incide anche sull'obiettivo che noi ci poniamo e sul metodo che scegliamo questo perché perché va da sé che se io posso operare solo alla sera è inutile che studi un metodo intraday ok cioè all'interno della giornata perché se io posso fare solamente alla sera perché ho un lavoro che mi impegna più di 8 ore al giorno è ovvio che io non posso pensare che allora mi metto a guardare i mercati mentre sono in macchina che vado magari da un cliente piuttosto che in una riunione perché non sarebbe assolutamente un tempo dedicato con una precisione verso quello che stiamo facendo con un'attitudine verso quello che stiamo facendo perché saremmo distratti da tante altre cose ok quindi anche questa cosa qua è importante perché se voi se scegliete un metodo di quello che non potete applicare il tempo perso avete studiato un metodo che non vi serviva quindi avete perso del tempo a studiare qualcosa che non potete magari può diventare un obiettivo inizio con un metodo che è attinente alla mia attività lavorativa quindi mi permette di farlo tipo appunto in quel giorno lavoro faccio un metodo invece daily ok e quando poi ho raggiunto certi risultati magari mi permetteranno di andare al lavoro non so di avere altre possibilità non potete andare a fare altri metodi magari più brevi termini ma diventano un obiettivo di passare per esempio a un altro metodo altra cosa se io posso guardare il grafico una sola volta al giorno è un po' difficile che io faccia il 10% con una sola operazione può essere siamo sempre come prima ci riuscite bravissimi però diciamo che stiamo parlando in senso generale diventa un po' difficile riuscire a fare questa cosa quindi attenzione quando noi diciamo del tempo deve essere del tempo buono buono per quello che vogliamo fare perché se no abbiamo perso del tempo spazio gioco di parole ma è veramente questo il problema poi anche riguardo al tempo non basta avere del tempo cioè non basta dire oggi mi dedico un'ora a studiare un'ora al training comunque un'ora del mio tempo la dedico a questa mia passione perché bisogna avere anche del tempo di qualità e per dire di qualità ovvero che si aprisce il cuore cioè che mi porti a un risultato conoscenza nel campo dello studio operatività quindi eventualmente take profit e non stop loss nell'ambito dell'operatività sul mercato quindi deve essere un metodo esclusivo scusate un metodo un tempo esclusivo cosa intendo con tempo esclusivo allora intanto dobbiamo operare in un ambiente con buona luce sia che studiamo o sia che facciamo operatività cioè non posso essere in una situazione scomoda in uno scabuzzino sto facendo una battuta ovviamente però in un ambiente che non sia comunque comodo per essere anche mentalmente rilassati e sul pezzo focalizzati su quello che stiamo facendo non dobbiamo essere disturbati da niente da nessuno questa diventa un compromesso eventualmente da ottenere con la propria famiglia ad esempio se io ho una famiglia che ovviamente mi impegna come vi ho detto tutta la sfera privata città eccetera sono riuscito a capire che il tempo che posso dedicare è anche mezz'ora al giorno ma quella mezz'ora deve essere mezz'ora e deve essere mezz'ora mia non ci deve essere nessuno che mi disturba figli che scorrazzano rumori devo essere assolutamente concentrato mi devo prendere del tempo per me stesso i nostri pensieri non devono essere altrove ovvero avete problemi preoccupazioni qualsiasi cosa che lasciate stare non operate tanto sappiate che il mercato c'è anche il giorno dopo le occasioni si ripresentano anche il giorno dopo ma non andate a operare se siete turbati psicologicamente non stabili perché molto spesso si fanno i più grossi errori non si sta attenti a quello che si fa magari si entra con una science troppo alta troppo sbagliata ecco attenzione quindi mentalmente dobbiamo essere sgombri liberi da qualsiasi pressione psicologica e quindi la nostra concentrazione focalizzata solamente sui mercati solo esclusivamente i mercati non ci deve essere nient'altro nella nostra testa se abbiamo come ripeto so di essere noioso se abbiamo altri pensieri per cortesia per vostra diciamo per vostro beneficio evitate di operare chiaramente e poi permettetemi in questa battuta finale ma che purtroppo tanto battito non è anche con un abbigliamento adeguato cioè non facciamo l'errore di metterci ad operare con il pigiama adesso ripeto una battuta ma cosa voglio dire situazioni di gente che si è svegliata di corsa perché magari c'era una notizia c'era il metodo che doveva fare si arriva a un certa ora doveva andare a guardare il mercato si è dimenticato di farlo e quindi si è svegliato di colpo di corsa è andato lì con gli occhi ancora mezzi chiusi dal sonno per guardare ecco no non facciamolo quando parliamo di avere un adeguato abbigliamento si intende cioè che abbiamo fatto una doccia siamo rilassati siamo a posto siamo pronti per affrontare una giornata lavorativa tornando sempre ad esempio del professionista voi vi fareste operare da un professore che vi arriva di trafelato di corsa di sudato dico appunto facendo una battuta vestito in pigiama perché mi sono io però e probabilmente avreste qualche preoccupazione chiedereste ma questo guarda dove arriva ecco uguale non dovete essere in quella condizione dovete essere in una condizione ottimale quindi vestiti normale in una normale giornata lavorativa come se iniziasse una giornata lavorativa in un ufficio ecco una roba di quel tipo poi non so dicendo dovete essere in giacca e cravatta di un ufficio questo assolutamente no ovviamente ecco anche qua poi c'è un aspetto che qua apre mille mille porte però ovviamente per ragioni di tempo condensiamo con degli spunti c'è anche l'aspetto emotivo cosa si intende con l'aspetto emotivo beh che tutto quello che abbiamo visto finora alla fine abbraccia anche l'aspetto emotivo perché sicuramente abbiamo visto prima la paura, la depressione su tutti aspetti emotivi in questo caso l'aspetto emotivo del singolo individuo coincide anche in un altro abito ovvero se sono una persona piuttosto opprensiva è controproducente operare con metodi per esempio di scalping quindi ovvero con un'operatività molto veloce molto frequente con time frame molto molto corti quindi se si opera a un minuto a cinque minuti e beh non è attinente al vostro modo e alla vostra psicologia al vostro modo di essere poi ai ragazzi lo potreste diventare questo ti può dirlo però per diventare lo studio eccetera eccetera tutto come l'abbiamo visto prima ma in primi stiamo partendo e siamo persone emotive che studiamo perché siamo in apprensione evitiamo di fare scalping perché lo scalping comporta operatività appunto molto breve e quindi dei click e delle decisioni veramente molto molto veloci e soprattutto vi dico un'altra cosa assolutamente importante che nello scalping così come anche nel trading in generale molto spesso chi per esempio opera fa molta fatica a decidere di chiudere un trading perdita pensate a quante volte voi infissate uno stop loss e magari il successo da un certo punto lo spostate non si fa non si deve fare mai ovviamente sto dicendo spostarlo a livello peggiorativo aumentando eventualmente la perdita se fate lo spostamento dello stop loss perché lo mettete in pari perché siete già in fase di guadagno rispetto alla vostra operatività ovviamente quella è l'operazione che si può fare ma questa quante volte capita che magari avete la sensazione che il mercato prima o poi girerà a vostro favore quindi perché andare a prendere lo stop aspettiamo allarghiamolo lo stop perché tanto prima o poi gira e non gira questo succede perché è molto più difficile accettare una perdita quasi che accettare una vincita molto spesso il take profit ci dà un enorme piacere ma ci dà meno piacere di quanto ci dà il dispiacere di prendere lo stop questo è proprio una cosa che abbiamo noi come esseri quindi molto spesso nello scalping il difficile è dire chiudo chiudo perdendo ma va fatto perché nello scalping appunto per questa rapidità con cui avviene molto spesso è rischioso star dentro a troppo tempo bisogna essere veloci quindi ripeto emotività lasciamo stare il scalping anche se questi aspetti qua verrebbero esasperati e non è il caso al contrario invece se sono uno che invece mi piace l'adrenalina mi piace quella sensazione di decisione in tempi brevi quella rapidità di scelta che è necessaria per operare magari appunto con lo scalping beh allora non mi devo eventualmente specializzare su metodi multiday cioè che sto magari in posizione più giorni e magari guardo il grafico sono amministrati al giorno o la sera magari lo sistemo magari sistemo le posizioni controllo che tutto vada bene quindi questa cosa a un personaggio di questo tipo porterebbe noia e quindi la noia probabilmente andrebbe contro la sua tipologia quindi magari lo porterebbe poi a cercare di fare altre operatività per cercare quelle sensazioni che gli mancano e magari a fare degli errori perché non è comunque il suo mondo non è il suo terreno di battaglia congeniale per le sue caratteristiche quindi questo aspetto consideratelo sempre anche quando andrete eventualmente a scegliere un metodo piuttosto che un altro abbiamo quasi concluso questa nostra breve trattazione mi permette di fare quest'ultima slide che è un pochino riepilogativa tutto quello che abbiamo visto per farvi capire qual è la logica che abbiamo seduto nell'affrontare questo aspetto della psicologia allora dobbiamo fare trading come fosse affrontare trading come questa professione e studiare per impararla approfondirla questo assolutamente per forza di cose quindi non va improvvisato e bisogna dedicare del tempo alla formazione quindi anche se è una cosa che magari ci piace poco pensare di fare perché magari molto spesso studiare va fatto è una cosa assolutamente necessaria crearsi le condizioni ottimali sia per studiare che successivamente per operare attraverso analisi degli obiettivi che abbiamo visto del tempo per dedicare eccetera eccetera quindi valutare la propria modalità operativa in base alla propria attitudine emotiva quello che abbiamo detto pochi minuti fa senza questo rischio di non essere appunto nell'ambito corretto della mia sfera personale della mia capacità personale di adeguarmi alle situazioni quindi come stavamo dicendo sono apprensivo evito operatività molto rapida e con tempi di decisioni brevi hanno le sensazioni forti evito l'operatività da posizione ovvero di lunga durata quindi cerco di decidere prima in che ambito andare a lavorare operare secondo il metodo scelto in modo disciplinato questa è importantissima ovvero non improvvisare ma rispettare e rispettarsi in base all'analisi precedente vi faccio anche qua un esempio banalissimo sempre sportivo se uno pensa a una squadra all'esempio di calcio se uno ha 11 fenomeni in campo ma questi qua vanno per i cavoli loro quindi non seguono i diciamo i schemi non seguono i consigli dell'allenatore quindi in campo non sono disciplinati secondo voi vincono? io credo di no anzi sono sicuro di no anche se sono 11 fenomeni si ne vinceranno uno di partita ma non vincere il campionato viceversa se ci sono 11 buoni giocatori ma sono disciplinati e sono tutti uno per l'altro si danno una mano rimiscono sempre a seguire quelli che sono tutti i casi che magari l'allenatore ha presentato a livello tattico e loro riescono ad avere la contromisura e quindi sono disciplinati non so se vincono il campionato però sicuramente nei primi 4 non ci arrivano quindi comunque se voi volete arrivare adesso la battuta è questa nei primi 4 del trading ecco disciplina poi il campione magari non lo sarete perché magari vi manca quella più elementare che il campione particolare ha che anche io ovviamente non ho per il mondo il signore io non sono Larry Williams però sicuramente so che sto operando con disciplina e quindi sto operando nel modo migliore a me possibile questo è fondamentale in ultimo valutare i risultati e ripetere sempre i punti quindi ritornare sempre su quanto studiato ogni tanto andare a rivedere perché un pip sposta tot che cos'è lo spread può servire sembrerà banale ma può servire e sapete che per esempio ci sono tanti motivatori che dicono ad esempio che gli obiettivi di una persona vanno messi su un post nello specchio perché alla mattina se li legge sono sempre quelli ma gli servono perché continuano a leggerli e li fissano la testa questa cosa è uguale voi dovete avere tutti i vostri punti ben fissi in testa e il modo più semplice per farlo ogni tanto è ripetermi fatto questo e quindi avendo quindi una consapevolezza di dove stiamo andando il famoso registro di cui parlavamo all'inizio della nostra chiacchierata ecco che con il registro tornate su e ripartite e questo diventa un loop positivo non come quello di prima che abbiamo visto che invece era un loop negativo questo è un loop assolutamente positivo perché ogni volta che fate un giro migliorate come persone e come conoscenza nell'ambito del tre io ragazzi ho teoricamente concluso questa breve trattazione so che non può essere esaustiva di un argomento così complesso ovviamente vi ho portato quella che è la mia esperienza e le esperienze che abbiamo io con la nostra scuola di formazione rispetto alle persone che seguiamo e vi dico che una volta che avete queste piccole informazioni cominciate comunque a ragionarci sopra sono convinto che qualche spunto operativo in più e di approccio a un trader a un trading profittevole dovreste dovreste trovarlo io ovviamente vi saluto passo la parola a Michela per chiedervi se eventualmente c'è qualche domanda sulla parte quantomeno conclusiva della mia trattazione e attendo eventualmente appunto vostre domande non ci sono domande al momento sono sicura che faranno un bel analisi una bella analisi un bel esame di coscienza perché soprattutto io consiglio sì perché alla fine si tratta di quello se andiamo se andiamo a vedere Andrea andare a a focalizzarsi principalmente sui punti in cui ognuno dei partecipanti si è si è rivisto certo assolutamente spero di aver ottenuto questo scopo se ci sono riuscito sono contento assolutamente esatto esatto bene allora io c'è una domanda c'è la possibilità di approfondire l'argomento con webinar successivi organizzeremo altri altri webinar sicuramente l'argomento è interessante se volete magari maggiori informazioni potete contattarci in modo tale da indirizzarvi ad Andrea e ti ringrazio tantissimo Andrea grazie a voi ringrazio a tutti i partecipanti vi ricordo potete la registrazione di questo webinar sarà disponibile sui nostri canali sul nostro sito alb.com e sul nostro canale youtube per qualsiasi cosa contattate il nostro desk il desk italiano e vi daremo tutte le informazioni vi illustreremo i servizi che la nostra società offre ai suoi clienti è arrivata un'altra all'ultimo un'altra domanda rispondiamo che dice Andrea sì 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 assolutamente ci mancherebbe se la so sì la psicologia subentra solo nella fase iniziale del trading assolutamente no è come se io chiedessi alla persona che ha fatto la domanda se lui psicologicamente quando affronta il suo lavoro ha avuto diciamo un approccio così diciamo psicologico solamente all'inizio della sua esperienza oppure man mano che comunque ha acquisito nuove competenze nel suo ambito poi dopo non ha dovuto in qualche modo sempre comunque risettarsi rivedere la sua la sua la sua formazione perché anche cominciamo sempre come abbiamo detto finora la formazione è un aspetto che incide molto sulla psicologia perché la formazione è la conoscenza la conoscenza ci permette di essere psicologicamente forti e sicuri quindi io gli chiederei proprio come riflessione personale quando uno ha iniziato il suo lavoro magari da un reato o quello che sia insomma il primo giorno ha iniziato con una certa emozione sicuramente con una certa ripaura quando è che ha cominciato a perdere questa paura quando ha fatto esperienza quando ha conosciuto la sua zona di comfort come si chiama e quando è stato le volte che gli è successo che è tornato a avere eventualmente magari timore paura quando è uscito dalla zona di comfort quindi quando le vicine della vita in questo caso lavorativa l'hanno messo davanti a situazioni nuove che non conosceva quando è riuscito a fare questo cosa è successo nel frattempo è successo che è vero che ha avuto paura è vero che ha dovuto provare a sperimentare cose nuove quindi in qualche modo ha fatto una nuova esperienza e ha quindi aumentato la sua conoscenza aumentando la sua conoscenza anche il suo livello psicologico è cresciuto e quindi si continua a fare questa cosa ed è può sembrare delle volte fastidioso avere questa chiamiamola paura questa situazione che non conosco e quindi accidenti come mi comporto ma se ci pensate è tutto il live motive della nostra vita cioè noi siamo riusciti a imparare a fare le cose perché abbiamo dovuto in qualche modo fare il passo un passo nuovo e quindi nel trading ovviamente da neofi magari questo è l'aspetto più importante perché iniziamo in un ambiente completamente nuovo ma man mano il trading è talmente ampio talmente variegato permettetemi di dire talmente bello che in qualche modo c'è sempre un aspetto psicologico nuovo da affrontare una sfida nuova da fare e io vi auguro che sia sempre così perché vuol dire che state sempre di più crescendo come trader e in qualche modo nell'ambito della formazione come persone questo è il mio augurio esatto proprio perché il trading è un settore in continuo aggiornamento bisogna avere una formazione continua ma non solo formazione anche l'aspetto emotivo bisogna aggiornarlo giornalmente va bene va bene grazie ancora Andrea grazie a tutti voi grazie buon primo maggio domani saremmo chiusi anche qui a Malta è festa grazie mille vi auguro una buona una buona serata e complimenti ancora Andrea grazie spero spero di di sentirci presto altrettanto da parte mia buona serata ancora grazie grazie per la partecipazione buona serata grazie a tutti